Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti Devo dire il mio nome Eh vabbè, te lo dici Sono Petro, igreltanke E sei Nixray Sta sempre noi tu, ormai potremmo fare un canale io e te, guarda Allora dai, spiega la nuova serie di video Allora, è una nuova serie che faremo noi due Che, ehm, faremo quick scoop E se vengono no scoop, ma probabilmente solo quick scoop Ma va, si vengono E 360, 66 Sì, vabbè, partite a quick scoop Nemici, nemici Scelta automatica No! Eh, vai, dai, quella, quella No Scelta automatica e secondo, questo qui Il secondo Ho sbagliato il primo Sei un babbione Vabbè, allora, vai, spiega E qua faremo il quick scoop Quick scoop Quelli In, in ogni, in ogni Call of Duty che abbiamo Sì, ma che schifo di... Poi non è neanche... Wow Allora, in, cioè In Mv2 In Mv3 In Black Ops E Black Ops 1 Va a cagare Sì, ma fa schifo Cioè, perché Allora, vi spieghiamo Che in poche parole qui No, ehm, vuole dire che qui in Mv2 Non si può... No, ho sbagliato Non si può giocare Orchè miseria Oh, mamma mia Oh, perché fa schifo Bisogna partire dal livello zero E quindi non sa tutto E quindi non riesco a giocare Cioè, online ho tanta roba Ah, schifoso Cioè, è molto diverso online Stiamo... Pare... Cando Duo Però un tè... E quindici Lo sai, oh Se volete... Vaffanbario Schifo Non so perché ero spuntato qui No, no, non vale barare, oh Lo sai Lo stavo barando comunque Stavo barando Cioè, vedete, le serie ve le da lui Cioè, non... Volevo mirarmelo alla candela No, dai Sono partiti a kick-skill No, 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 no Chi vincerà più Tornè Cioè, più partite Vincerà un pochetto di... Una caramella Aaaaaah Voglio una caramella Lo sai Oh E... Non vale E niente, no Stavano dicendo Li facciamo Su tutti quelli che abbiamo Vabbè, li avrete già visti, eh Era veterano, giusto? Eh, no, vabbè Non è che ho messo veterano Ho messo vitamina No, dai Ma, dai, ma sei troppo forte Ma non vale Non sono troppo forte Beh, fa schifo qui Sconti testa roba schifo Che abbiamo pochissima roba Lo sai io Dovuti sei campionato Dovuti sei campionato Non ci credo Non ci credo Non ci credo C'è stato morto in una maniera Io so scarso questo No Ma Visto che è temporale Io Baby Oh, ma Che schifo Cambiamo classe di nuovo No, no, perché con il barretto è sbarretti Non si può sbarrettare, dai, no, se si Non vuol dire sbarrettare Come cosa vuol dire Ma si sopperti me Cos'è sbarrettare? Sbarrettare Sbarrettare significa quando fai così Tu stai sbarrettare Eh, lo raccolto da terra da te Oh, oh, 300 punti, perché? Perché sono ritorno a questa feste e pure un po' finocchio Beh, poi lo sapere Ma non puoi morire Dove sapere che lui è fidanzato Quindi non potete dargli del finocchio Appunto, perché se me lo date Perché me lo state dando Oh Potete dargli il finocchio Perché cade dai tetti e mi ammazza Vabbè, quello è un piccolo vertigo Tata Affronoci di mierda Sì, però adesso non mi dà le munizioni del bar Vette, ma io voglio quelle del coso Eeeh... De se fi... Loci Oh, non è che è ferrato Scusa, mi dà Eh, guarda Non vale Bari Oh, cacchio, questa era mirata Però vant'ho ucciso No, è impossibile Dai, muoiti Sono qui, te lo lascio di guardare tutti le pre Eeeh... 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 Baby, please I'm bombastic Selefantastic Oh, vabbas, schifo, vabbè Porca miseria, perché non muori No, 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 meglio l'intervention Che poi l'intervento Ma scusa, noi stiamo commentando per te Ma l'abbiamo spiegato Allora, Dugga stava dicendo Una serie su tutti e quattro Poi Quando ci saranno pian piano i vari club video Noi ti presenteremo gli altri episodi Cioè... Tipo quando uscirà Call of Duty Ghost Dai, non vale Da là sopra ti ho stordito Tipo quando uscirà Call of Duty Ghost Vi faremo una partita a quick scoop di... No, no, ladro Sì, ma non accoltellare, Barbone Da noi si fa... No Eeeh... Ultimo colpo E mi tocco usare sto schifezzino Dai, perché? No, dai, basta con questi stordenti No, fanno forte del gioco le stordenti Non è vero E' solo perché l'ho messo per forza Non hai messo il Tamawalk Eh... Siamo a livello quattro Schifo Dai, basta No, no, no Noo Eh, davanti a me Ma perché stasce un nuovo scoop Dai, usai il coso No, mi trovo meglio con questo Che palle Ma non spara, no grafica non è quello il problema che finiscono le munizioni e allora? e allora non posso scarsi con l'altro dai ma non sono partite qui così dai 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 no che scemo che sei già voglio se mi giusto il controller non è lo volevo mangi chiare ah ne ho fatte ultima cosa a terza santa si così ti recupero ah non ci conterei ah si perchè devo usare il bar perchè il bar è l'ora del terza santa finisca munizione ah vuoi dire che non ti interrompo neanche una volta ma esatto piuttosto me la miro ma ti interrompo no dai però che verbo non ho mirato ho capito ma gli stordenti eh 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 do l'hai mirata no 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 guarda sto scherzando assieme sì ma basta è stord정ese che poi io adesso lo vuoi fare a 60 si stordirà mentre fai 360 banana con una banana con una banana ai bombostic perchè mi sei dietro mal detto ah ma fai così 360 tu? non ho mirato la propria lo faccio al post dove non so come fare don posto c'è giocato una volta stamattina tu scherzi veramente davvero sì parvole sei sopra io mi sono pure incastrato dove cavolo sei? è sopra i cani ma è una sola cosa da dire che di un palumpa mi hanno mangiato il cervello un'altra volta basta dentro che parvole che sei però fa parte del gioco sì ma non gli sordenti ma non c'è sordenti oh my god no scoop a caso non mi uccida aspetta che lo lancio fuori grande ok ci siamo voglio le prigioni anch'io non ci uccidiamo vicenda che stai facendo ah è arrivato guarda cos'è il ride no no va che è troppo cos'è? mi aspetta no è troppo potente che fortuna però sono qua ma barbone butto aspetta che butto via il nel deserto oh ma quanta roba ho io io ho reddizionale voglio provarlo però eh sì vabbè dai provalo mi nascondo un attimo vabbè perché non ho più una mappa oh ma basta quanta roba ho oh non ho più una mappa ho chiamato a lemp ma basta per cui hai tutti chiamati perché come giustizio la distruggi no la torretta robot no è no la torretta robot ma perché adesso riesci a giocare mentre prima no ma come si ma almeno non lo scappa guarda non muori oh è tornato sto dannato cosa buone che nervoso basta allora ah cosa dobbiamo dire allora dobbiamo è bombastic ce l'è fantastico oh allora questa serie comprenderà solo delle partite tra me e lui non so se la metterò anche sul mio canale oh 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 oppure faremo tra me e gli altri del mio canale però vabbè no le vedrete di certo sul suo canale e questo qui comunque è il primo episodio su Mv2 il prossimo sarà su Black Ops poi Mv3 poi Black Ops 2 poi quando ci saranno gli altri episodio negli altri videogiochi faremo altri episodio noi faremo anche quick scoop e no scoop su Need for Speed si con le macchine si vabbè dai ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.